Mentre è stato trovato il secondo covo di Matteo Messina Denaro, che si trova in pieno centro a Campobello di Mazzara, le forze dell'ordine sono alla ricerca di uno terzo covo. Pare infatti che il capo Bosso avesse un altro quartier generale dove operare la sua attività malavitosa e sembrerebbe che gli investigatori siano ad un passo dal trovarlo. Continueremo ad aggiornarvi attraverso la nostra pagina Facebook Canale 2.TP e il nostro sito canale2.com